Buongiorno ragazze, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlogmas Rairo sta ancora sopra e sta facendo il letto Noi siamo qua a preparare la colazione a sorpresa Oggi facciamo l'albero Vi faccio vedere Pupu C'ha tutto il vestitino Ha freddo, si mette sotto le coperte con il vestitino Amore, adesso vi faccio vedere cosa sto preparando Ragazzi guardate, sto preparando le crepe, perdonatevi perché sono senza trucco ovviamente Sto preparando le crepe per il mio amore Spero che gli piacciono, gli ho detto che gli volevo far provare i cereali, ho preparato tutti qua Però poi a sorpresa ho pensato anche di fare le crepe Beh amore mi ha appena fatto spaventare, ha fatto finta di essere un cane, si è messo là a terra e faceva finta di essere un cane, mi sono a casa di pazzi Sì Non vuoi rifare? Fa vedere come è fatto Ma io mi sbatto ancora il cuore Ma io mi so Ma io giuro mi fa male in petto eh, sto rischiando ad avere un impatto Amore guarda sto facendo le crepe, c'è la cucina sotto so proprio, però sto facendo le crepe, sei contento? Questa è la crepe crepe La crepe della crepe E poi ti voglio far provare La rotella questa? Non c'è Con la cioccolata Poi ha preparato qua le tazze vuote, vabbè però già una cosa Ha scelto, amore qua dobbiamo mettere il latte Però freddo perché ti farò vedere con i cereali che tu volevi provare Allora, il latte questo di cocco e questo di mandorla lo mischiamo perché questo è quasi finito, sono buonissimi E poi i cereali miei preferiti E poi devo provare se sono buoni, non sono buoni Questi qua di mais, questi qua integrali, sono buonissimi E poi questi qua, questi sono buoni Amore, sono tutti light, tilt, fit Io scendo da coppa con il netto e pizzette Andiamo, facciamo così perché già oggi ci aspetta grandi mangiate, dai Stasera Stasera ci aspetta, oggi facciamo l'albero Oggi facciamo l'albero Che bello Facciamolo a vedere Come sono belli, questi si chiamano di frusca Fali prima a vedere Si chiamano riccioli di frusca e sono bio, ovviamente Sembrano tipo chip stare, però insibili Amore, vieni qua, aspetta, falle vedere come sono Ragazzi, sono troppo buoni perché sono super croccantosi Sì, amore, qua c'è un po' di cioccolato No, amore E poi alla fine sembrano Ti danno soddisfazione pure nel latte Amore, però sono amici, c'è il pacco Dai, ho fatto anche le crepe Ragazzi, anche i vostri fidanzati vi finiscono tutto Ciao, bene, vado Eh, ma c'è, sei venuto per macellare tutto Vado a vedere i film di Natale Brava, vai Se guardate come sono brava Giro la crepe Ecco qua Bella, vero? Bella, ragazzi, sta uscendo anche il sole Amore, che film hai deciso di vedere? Film di Natale Film di Natale? Sì C'è anche i pubi che dorme Sì, è al mercato Che bella colazione ho fatto, amore Ti piace? Sì Guarda che belle crepe Con cioccolato, no, con la Nutella Guarda come sono belle E poi che ho fatto, amore Ho messo cereali qua dentro Così non ci mangiamo tutti il bustone È un piccolo segreto Buon appetito, amore Anche la spremuta Ragazzi, ci siamo quasi Cioè, no Per ora abbiamo solo aperto l'albero Comunque quest'albero così bianco Io ve lo sconsiglio Perché guardate cosa succede Fa un sacco di monnezza a terra Vero, amore? Sì, sì Adesso dobbiamo mettere le lici Mio amore Amore, come si fa? Lele Lele Che bello Guardate, mio amore, cosa mi ha regalato ieri Amore, cosa mi ha regalato? Un babbo Un David, amore Un David David Un babbo natale Di cioccolata Un babbo natale di cioccolatoso È bellissimo Amore, io non lo mangerò mai Perché è troppo bello È vero, amore? Tu non lo mangiare mai? No, amore Mi piace troppo Le possiamo comprare due cose Uno lo conserviamo E uno lo mangia Così uno lo mangia a dare Io Troppo carino Ho messo anche questo qua Questo runner di Natale Che mi ha portato mia mamma Amore, ma il nostro runner di Natale Come siamo? Ah, gli dobbiamo dare un nome Visto che David ha chiamato Natalino Noi Natalone 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 Sì, mi piace Comunque Questo runner di Natale Sarà la mia unica decorazione Addobbo natalizio In questa casa Oltre all'albero Ah no, c'è anche il tappeto di Natale Che altro c'è amore? Ah sì, c'è questo Che ha comprato il mio amore Un mese fa Di Natale Poi dopo vi facciamo vedere I cuscini Poi ci sono C'è qua C'è questa candelina Che ce l'ho Tutto l'anno Però alla fine è natalizia Ci ho appena girato il video Che voi Già avrete visto Perché pubblicherò prima il video E poi Questo vlog Di prodotti Guardate qua quanti Di tutti i prodotti Nacomeno Vabbè sono stupendi Dovete troppo vedere il video Vi lascio il link Nelle schede qua Guardatelo Perché sono dei prodotti Stupendi Stupendi Davvero Io li amo Troppo E li trovate su Caritashoppo.com E Natale Abbiamo fatto l'albero Finalmente Che bello Abbiamo messo anche tutte le luci Sì che bello E Natale Amore Siamo felicissimi Adesso vi dico Tutto quello che ho utilizzato Per il mio look Sì amore No amore Amore Aspetta Mantieni L'ho messo bene Ecco Così Se proprio devo metterla Ok Invece Io ne ho fatto il tempo Faccio dell'albero Dove vai Che bello Iniziando dal basso Praticamente abbiamo messo anche la busta del carnitashop Ovviamente Perché è molto shabby Alcune scatole sono tutte vuote Buste tutte vuote E poi abbiamo addobbato tutto bianco Amore ma giù non si accendono le luci Amore scusa Ecco si accendono Si spengono Guardate che bello Che meraviglia È troppo bello L'albero bianco Oh 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 Adesso vengo a portare i doni e i bambini E' pure come dei carnitashop Domani faremo i pacchi e ci metteremo I cioccolatini Ragazze Nei vostri ordini che farete sul nostro sito carnitashop Da adesso in poi ci saranno I cioccolatini Io l'ho anche assaggiato perché dovevo provare Sono buoni Comunque ragazze Amore è venuto bellissimo questo albero Poi non me l'aspettavo ma l'abbiamo fatto in poco tempo È venuto proprio bello Poi abbiamo messo anche queste luci qua Che ci ha dato mio padre Quindi viene l'atmosfera così Guarda com'è bello che si vedono le luci dietro Stavo tipo cadendo Stavo tipo cadendo Comunque raga siamo felicissimi Ragazze sotto l'albero ho messo anche le confezioni natalizie di Fitvia Sono troppo belle E secondo me sono un'ottima idea per i regali di Natale Perché qualcosa di originale è molto bello Guardate questa bottiglia rossa È bellissima secondo me che viene in questa bellissima confezione E poi c'è l'inner beauty che è un tè favoloso Per la bellezza del corpo del viso e dei capelli Questo è chiuso perché lo voglio regalare Voglio regalare questa confezione ad una mia amica E andate a vedere sul sito di Fitvia ci sono tantissime confezioni di regalo veramente belle Ragazze questa invece è la mia che è aperta come potete vedere Perché io lo sto bevendo da un po' di tempo In realtà era un segreto che ancora non vi avevo svelato Ma per la bellezza dei miei capelli e della pelle Questo qua l'ho trovato veramente un toccasana E c'è una bellissima promozione per voi Se la volete provare approfittate Perché con il codice Carlita Beauty Sul sito Fitvia potrete riceverla in regalo Una busta di questo nuovo tè inner beauty Che vi renderà bellissime Assieme alla bottiglia Cioè spendendo 59 euro sul sito Fitvia Se inserite il codice Carlita Beauty Riceverete questi due Il regalo, il tè e la bottiglia Quindi io ve li straconsiglio Se volete fare un ordine per raggiungere 59 euro Così avrete questi due regali Vi consiglio di comprare il super fruit Il Fitberry e lo Strawberry Che sono i miei tre gusti preferiti di Fitvia Contiene tantissimi ingredienti Come la rosa, la melissa, la salvia, il finocchio Che servono tantissimo per purificare la pelle e i capelli Praticamente ragazzi io da quando la sto bevendo Mi ha fatto i capelli lucidissimi E mi ha reso la pelle più bella e più luminosa Quindi io ve la straconsiglio E io la sto bevendo tutti i giorni E mi piace tantissimo Un ottimo sapore Grazie Allora come trucco ho utilizzato Il fondotinta Alchemilla Che voi sapete che mi piace tantissimo E il correttore Il fondotinta e il correttore Alchemilla Ovviamente che li trovate su Caritas Shop Perché là trovate tutti i prodotti miei preferiti Sul mio shop online E poi ho utilizzato La matita e il mascara di Nabla E questi sono quelli base Che uso sempre Poi ho utilizzato anche l'illuminante nuovo di Nabla Quello là che è della nuova collezione Comunque se andate su Caritas Shop.com lo trovate E ora ho utilizzato il rossetto Rouge Mon Amour Bellissimo Il mio rosso natalizio Stupendo Guardate che bello Nel frattempo si rompe tutto Comunque è stupendo Se cercate un rosso Che dura nel tempo E che non secca le labbra Questi rossetti hanno anche un buon inci E poi per essere più precisa Ho utilizzato la matita Del kit Del lip kit Sempre di Nabla Alte Rego Quindi per fare il bordo Queste matite le uso tantissimo Anche per utilizzare altri rossetti E altri prodotti E ho messo questo Sono felicissima Mi piace questo makeup Non ho messo anche altre cose Troppe cose Perché comunque quando mette il rossetto rosso Ti piace amore? Sì È bellissimo Sei mo' natalina Amore ma sai cosa devi fare adesso? Sì cosa? Se vai a registrare devi spendere la luce solo l'albero e l'albero Giusto Mi amore è troppo forma Com'è carino Oh che magia amore Adesso ci vuole solo i regali di Natale Oh 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 Arrivederà Dario a casa vostra Nascondete il mangiare che se mangio tutto cosa Quando è Un attimo seduta in bagno Perché vi voglio dire Anche i prodotti che ho utilizzato sui capelli Perché so che lo vorreste sapere Allora ho utilizzato lo shampoo Diorinforzante di Apiarium Anche questa è una nuova linea Che adoro Vi farò un video Nei prossimi giorni La stramo Ho utilizzato La maschera per capelli Sempre della stessa linea Apiarium Questa è una maschera super ristrutturante Ve la straconsiglio C'è anche il balsamo C'è anche il balsamo Eccolo qua Concentrato Bio concentrato E' veramente buonissimo Io alterno Faccio una volta il balsamo Una volta la maschera Per non appesantirli E poi ho utilizzato Prima di asciugarli Un po' Dell'olio termoprotettivo Questo qua Per proteggerli dal calore Della piassa E del phon E poi Ho utilizzato I miei amati Questi qua Cristalli liquidi bio Di Alchemilla Le adoro Questa cremina Profumata Che la metto sempre Mi chiude le squame del capello Mi ripara le doppie punte E poi Il super tocco finale Lo spray Alla rosa Fissativo Di maternatura Anche questi prodotti Per capelli Sono ottimi ragazzi Infatti Ho inserito solo Cose top Sul mio shop online Questo profuma tantissimo Ed è veramente bello Sui capelli Molte mi dite Che non sentite il profumo Quando lavate i capelli Se prendete questo spray Così li potete ravvivare Il profumo Oltre che fissare la piega E togliere l'effetto crispo E poi Mi sono messa Anche il mio profumo Questo è il profumo Per corpo insomma Adoro tantissimo I profumi di Apiarium Lo sapete Sono da anni Che ve ne parlo E adesso sto utilizzando Questo qua Fiori d'Iris Ovviamente anche profumi Solo naturali E biologici E secondo me Sono un'ottima idea Regalo Che ne pensate Sono troppo belli Ci sono tantissimi gusti Anche gersomino Vaniglia Sono veramente buoni Acqua Acqua e sale Sono tutti buonissimi Se venite a fare I vostri regali di Natale Su Così arriverà a casa vostra Anche i cioccolatini E Dario e Carlita A proposito del video Con tutte le idee Regali di Natale Che vi ho fatto Qualche giorno fa Con Dario Vi ho caricato Sul Caritas Shop Online Una sezione Regali di Natale Guardate qua Se ci cliccate sopra Accanto a novità Escono tutte le idee Regali di Natale Che abbiamo pensato Per voi Tante confezioni Tanti prodotti Bellissimi E poi Un'altra novità Sono gli sconti Abbiamo messo Tanti prodotti scontatissimi Guardate Già nella home Li vedete Addirittura abbiamo messo Tutta la sezione Delle maglie Abbigliamento Almeno 15% Perché in tante Ci avevate detto Che vi piacciono Che le volete Che magari siete un po' Più piccolini O che magari ne volete Prendere più di una Volevate risparmiare Quindi abbiamo messo Meno 15% Su tutte E per vederle Basta che andate Nella sezione vestiti E vi si aprono tutte Io ci credo tantissimo Mi piacciono tantissimo Come vedete Ho fatto le foto Tutto Perché sono prodotti Che ho fatto io Linee che ho fatto Disegnare io E poi dietro Ho ogni maglietta Guardate Sono tutte scontate Ad esempio questa Viene 19€ Quando ci cliccate sopra Dietro Vi fa vedere Ci sono anche gli hashtag Ogni maglietta Dietro c'è un hashtag Che appartiene Al mio mondo Carlita Style Quindi può essere Dreamer Natural Happy Fit Girl Be addicted Healthy Mi piace tantissimo Questa cosa Quindi spero Possa farvi piacere Questa cosa Dello sconto Mi raccomando Approfittate Perché comunque Le magliette Non sono tantissime Già stanno Andando sold out Quindi praticamente Sono un'edizione limitata Fra virgolette Quindi Affrettatevi E andate su www.caitashop.com Fatemi sapere Quali sono le vostre preferite A me piacciono tantissimo Anche questa rossa Ci sono vari modelli Questa è lunga Poi c'è la lunga Con il cappuccio La corta Quella con le perline Sono varie Anche le t-shirt Magari le potete mettere Anche in palestra Oppure con un cardigan aperto Comunque andatele a vedere E spero che vi piacciano Grazie guardate qua Allora innanzitutto vi devo far vedere Le cuscini che ha comprato Dario Sono troppo belle Abbiamo messo uno sopra E uno giù Amore sono bellissimi Sei stato bravo A comprarle Pupi è sotto le copertine E poi guardate qua Ieri ho fatto shopping Da Tiger Ho comprato un sacco di cose Un bustone pesantissimo Mi hanno dato anche questo Buon Natale Tutto il Depliant Ma la cosa più bella ragazzi È che adesso Dobbiamo registrare Un super video Vero amore Con tutti gli snack Di Tiger E la cosa più bella Che tu non hai mai fatto Questo video Di assaggi snack Sei felice? Io sono felicissima Non vedo l'ora Di caricarlo Magari riesco a caricarlo Già in questi giorni Quindi guardate Sul mio canale YouTube Perché sarà epico Perché ovviamente Snack assaggi con Dario Vabbè Non vedo l'ora Se poi volevo dire La maglia Questa qua Con il ricamo Fatta così L'avevo comprata Amore L'avevo fatta vedere In un video Haul O vlog Vecchio E l'avevo presa Da Tezenis Se non erro È quella Della storia Della collanina Vi ricordate Che feci E poi Ho indossato Invece questa gonna Che è di Pinta pelle Ed è anche Imbottita dentro Questa qua L'avevo presa Da Zara Però non quest'anno Mi sembra l'anno scorso E poi le calze Sono stupende Vero amore Sono troppo belle Queste calze Adesso vi faccio vedere Sono particolari Sono brillantinate Sì Sono hanno i brillantini E dei fiori E alla fine Sono Delle calze pantalone Alla fine Che avevo preso Da Tezenis Da Tezenis Le avevo prese E le scarpe Le avevo prese Da Sinti Sono queste qua Quindi vi ho detto Proprio Tutto Ciao Adesso registriamo il video Ciao ciao Dietro le quinte Nel nostro video Assaggi Come si consumano i nostri video Assaggi Mangiando tutto Quello che abbiamo Assaggiato nel video Sì Sì Poi fa freddissimo Siamo al vomero E andiamo a mangiare Il ristorante giapponese Tanto per cambiare Poi è pieno di lucine Bellissimo Guardate quante belle lucine Che ci sono Bellissimo qua Vero amore? Sì Che bello Molto bello Tutto Che bellissimo Anche se fa freddo E' molto piacevole Passeggiare Comunque c'è l'atmosfera Natalizia Ed è un freddo Pacevole E' vero? Sì Siamo pronti Per andare a dormire Ci sono tutti C'è Molly Con colore Pupi Cucchi Un altro super vlog Domani Ci vediamo domani Con un altro vlogmas Un bacio Buonanotte Lasciate un like A questo video Vero amore? Sì Un bel like Un bel like Che bello stare qua Con tutti i nostri cagnolini Mollini 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 Ciao Mollini Ciao E lui Cuccolone Cuccolone Mollini 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 Ehi Che bello E lei non ce lo sono Guarda come ce lo sono Ciao 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 Grazie a tutti.